Ascoltatemi ragazzi, ai Laboratori Star vi spiegherò le missioni di Superman che dovete fare. Statemi a sentire. Missione 1. Per iniziare, Flash cerca di far ragionare Superman riguardo a come le sue emozioni possano ostacolarlo. Completa le mosse elencate nella parte alta dello schermo prima di salvare Lois. Dovete potenziare le vostre abilità, eseguire una combo da 5 colpi e superiore al 30%. Missione 2. Il Sole Giallo. Determinato a non farsi fermare da Bane, Superman usa il potere del Sole per aumentare la propria forza. Resta all'interno dei raggi solari per rigenerare la salute di Superman. Voi dovete sconfiggere Bane, eseguire una transizione a livello e vincere con 50 più secondi rimanenti. Missione 3. Batarang di Kriptonite. Lex ha agganciato a Batman un dispositivo di controllo mentale. Sconfiggi Batman evitando i suoi Batarang di Kriptonite. Capite? Dovete usare un oggetto interattivo ed evitare di venire colpiti da un Batarang. Missione 4. Battaglia Termica. Sconfiggi il Superman alternativo portato sulla Terra dall'Ex. Segui tasti a schermo per attivare la vista calorifica. Vincete la battaglia, vincete senza mancare nemmeno un tasto e sorpassate 5 volte la linea. Missione 5. Pioggia di Fuoco. Cyborg è stato riprogrammato dall'Ex per abbattere Superman. Fate attenzione ai detriti in caduta dagli edifici circostanti. Sconfiggete Triborg. Vincete senza farvi colpire da più di 5 detriti e mandate a segno 10 mosse speciali. Missione 6. Meteorite da Kripton. Superman è stato indebolito dalla Kriptonite lasciata cadere dall'Ex. Dovete sopravvivere per 20 secondi senza farvi colpire dagli attacchi di Catwoman. Dovete sopravvivere per 20 secondi. Eseguite una combo palleggio da 4 colpi e 2 lanci. Missione 7. Salva l'umano. Gli scagnozzi di Lex stanno attaccando i civili. Proteggili usando il tuo lampo di vista calorifica e il terremoto per fermare le minacce in arrivo. Dovete salvare il cittadino. Non mancate nessuna delle minacce in avvicinamento e schiacciate gli insetti. Missione 8. Vapori nocivi. Superman cerca di interrogare Poison Ivy sulla posizione di Lois, ma scopre che Lex ha liberato Joker e l'ha armato con del veleno di Kriptonite. Sconfiggete Joker. Vincete con un lancio e vincete senza usare abilità speciali. Missione 9. Uomo d'acciaio. Tre dei criminali più potenti dell'universo sono stati inviati a distruggere Superman. Usa la tua super mossa per infliggere il colpo di grazia. Dovete sconfiggere tutti i criminali. Vincete usando solo i pugni e mandate a segno 10 mosse speciali contro un avversario. Missione 10. Placcato di Kriptonite. La LexCorp ha sviluppato una fonte di energia alla Kriptonite per l'armatura di Luthor. Colpite 10 volte Lex per esaurire la fonte di energia e salvare Lois. Ricordatevi di sconfiggere Lex. Vincete senza saltare e vincete con una super mossa. Sembra che vi ho detto tutto ragazzi. Io vi ho detto le missioni di Superman nei laboratori Star Lab. È tutto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che queste sono 10 missioni di Superman.